Il PD e tutti i gruppi dell'opposizione hanno presentato la richiesta di consiglio comunale straordinario in forma aperta sulla sanità. I consiglieri hanno raccorto alcune denunce e segnalazioni, compresa la lettera dei 20 primari dell'ospedale che hanno scritto al manager la gestione del San Salvatore è ormai fuori controllo per loro, non si procede a nuove assunzioni, liste di attesa infinite, mancanza di materiali essenziali come le garze e il consiglio comunale deve prendere a pieno sulle spalle la funzione di controllo anche perché il sindaco, hanno ricordato, è la principale autorità sanitaria e presia del comitato ristretto dei sindaci. Vengono fatte delle gare al massimo ribasso sull'approvvigionamento dei materiali che peraltro vanno deserte come è successo la scorsa settimana su 29 gare da espletare per rifornimento di materiale fondamentale all'uso comune giornaliero dell'ospedale 19 sono andate deserte perché al massimo ribasso ovviamente le ditte non partecipano. Non viene fatto aggiornamento tecnologico sulle attrezzature già in uso quindi abbiamo da aprile un cartello che per motivi di privacy ovviamente non abbiamo potuto pubblicare che dice che la radioterapia intraoperatoria per il trattamento delle recidive del tumore al seno non funziona perché non è stato fatto l'aggiornamento tecnologico di 200 mila euro. Stiamo parlando di un'attrezzatura che vale un milione di euro quindi dopo 15 anni ovviamente era necessario un giusto aggiornamento per la tutela della salute. C'è anche la questione del DEA importante della medicina del territorio? Perché il DEA è vero che con la legge Lorenzin stabilisce dei criteri sui numeri di accesso ai pronto soccorso e quindi di prestazioni che vengono fatte ma il DEA di secondo livello scippato dalla città di Pescara deve essere sostituito qui con una programmazione che oggi non abbiamo perché se non ci sono i numeri per fare quello allora ci dica la regione che cosa pensa di fare per il territorio delle aree interne. Il manager dovrà rispondere sul suo operato tuona l'opposizione non si è presentato in commissione neanche alla riunione di lunedì in ospedale il sindaco deve assolutamente intervenire questo hanno detto tutti i presenti il manager continua a dire che va tutto bene hanno proseguito ma vorremmo sapere se lui passa in corsia a vedere ciò che succede l'ospedale insomma ai livelli di basso fondo non è più come una volta Rotellini ha pure parlato di una asla completamente assoggettata alla politica un coro di voci forti ha spiegato la pezzo pane quello dell'opposizione alla richiesta è stata legata un documento aperto ad ogni contributo che potrà arrivare